Allora, buon pomeriggio a tutti, siamo sul percorso della quarta prova del campionato Cincane Puglia 2014, siamo a Ostuni, la città bianca, e allora, già grande evento, prima volta di sabato, primo trofeo Morelli, prima volta qui a Ostuni in notturno, una gara bellissima, la preparazione è già incominciata da qualche giorno, abbiamo già deciso la location, molti sponsor sono già pronti, ebbene, vediamo adesso la curva, la migliore impostata per questo Cincana, un andato in ritorno molto impegnativa, un andato in ritorno molto impegnativa, molto difficile per i piloti, sarà una competizione come sempre agguerita, arriviamo da una Cincana come Castellana Grotte, molto, ricordiamo, primo trofeo a Castellana Grotte, una gara molto importante, ricordiamo ancora una volta che la Cincana si darà in piena estate, prima volta, 19 luglio, dovrà fare molto caldo, le previsioni sono tutte dalla nostra parte, ricordiamo ancora una volta la premiazione, bellissima, in discorso, nella piazza centrale, tutto pronto, il solito palco, molti ospiti importanti, il turismo che non viene mai a mancare in una delle città più belle della Puglia e del Sarento. A condurre questo campionato Cincana e Puglia 2014 è Donato Argentiero, i diretti inseguitori nella rotta per il secondo posto sono Marzio Matteo e Massimo Ligorio, straccato ancora di qualche punto il giovane italo-argentiero e ancora una volta tanto tanto combattimento tra gli ormai conosciutissimi Andriola, Morelli che è tra l'altro l'organizzatore di questa splendida Giuncana e tanti altri altri, Michele Vinci ormai uno storico di questa bellissima competizione, quindi ci sarà da divertirsi, lo spettacolo è assicurato, noi ci siamo. Vi aspettiamo tutti per gara 4 qui a Ostuni, in questa bellissima gara sotto le stelle, ricordiamo prima volta in notturna, partenza alle ore 5 pomeridiane, i piloti saranno già pronti e molto coinvolti. Dal vostro Giacomo Ciamben Argentiero un grande saluto e vi aspettiamo alla Giuncana il 19 luglio.